Il discorso è, a volte si arriva anche degli eccessi, io ho visto dei video dei raponi che prende in giro persone veramente super big dello sport Oppure è come domingo quando ha fatto il video in cui prendeva in giro Larry Wills, cioè Larry Wills ragazzi La prova in panca di gara, una bestia comunque, 525 libri 525 Ah e cos'è sta roba? Cioè se l'ha ficcato nello sterno Eh questa è la classica panca, sinking spot no? Sinking stop Scusate Sinking stop Sinking stop Spero È come se un ciclista prende per il culo Armstrong o un pugile di periferia si mette a prendere in giro Tyson Cioè è una barzelletta